Palazzo Amati Cellesi. Pistoia, Piazza Garibaldi VI. Il palazzo nasce nel 1720 nell'area in cui nel XII secolo nascevano le mura urbane del secondo cerchio, successivamente abbattute. Nella facciata si scorge lo stemma marmoreo degli amati e tra le due finestre del primo piano viene posto il busto di un personaggio della famiglia. Al piano terra si trova un grandioso atrio dove si innalza il monumentale scalone a due rampe parallele. Altrettanto fastosi si presentano gli altri vani del palazzo, con affreschi di Giandomenico Ferretti, Firenze, 15 giugno 1692, Firenze, 18 agosto 1768, e da decorazioni a stucco eseguite da artisti fiorentini.